Ciao a tutti e bentrovati. Oggi ci sarà sul nostro canale un gradito ritorno perché avremo di nuovo con noi l'Andrea Badia Quartet. Vado a microfonare comunque tutto anche close, poi lo uso all'occorrenza. Io vorrei avere un suono di insieme che possa essere ripreso dal microfono ambientale per poi condire tutte quelle che sono le riprese spot che noi andiamo a fare. Mi stavo chiedendo se fosse più funzionale farti suonare comunque con l'amplificatore considerando che non ci sarà monitoraggio di nessun tipo o meno. Sì, infatti stiamo senza bufio. Esatto, io volevo farti suonare proprio live. Ok, allora te lo porto. Ci ritroviamo qui con l'Andrea Badia Quartet. Ci siamo visti un paio d'anni fa in un contesto diverso. Oggi invece ci ritroviamo qui da noi in studio. Nel frattempo come sono andate le cose per voi. Ah, sono andate molto bene. Innanzitutto grazie per averci invitato qui da te nel tuo mondo. Le cose sono andate molto bene. Abbiamo fatto due tour, questo il secondo, dall'uscita del disco maschere. Abbiamo girato un po' l'Italia. Abbiamo fatto anche qualche capitale europea. Ci stiamo divertendo molto e più suoniamo in giro per l'Italia e più si rafforza l'interplay fra di noi. Quindi come tutte le cose più si va avanti e si migliora sempre di più. A questo proposito quindi mi viene da chiederti, da chiedervi, quando è che nasce il quartetto con questa formazione? Allora noi ci siamo conosciuti, io con Alex ci conosciamo da quando eravamo musicisti in erba, studenti, come siamo ancora adesso. Poi lui mi ha presentato i due maestri, Lelo Petrarch e Luca Paravallo, abbiamo fatto un evento privato insieme e vedendo che si era creato subito un bel feeling sia umano che musicale, insomma, ho deciso di coinvolgere in questo progetto. E' nato questo quartetto che sta funzionando sia dal punto di vista dell'amicizia che dal punto di vista musicale. E tra l'altro questo poi dà anche la possibilità di portare le loro composizioni all'interno di questo progetto. Sì sì, certo abbiamo nel nostro diciamo il concerto che facciamo, che proponiamo, c'è sia due brani di Lello e un brano di Luca che fa parte anche del disco Maschere. C'è un blues di Lello che si chiama Jumps in Competenti e poi c'è un altro brano che mi piace molto, si chiama Un Pensiero. Lo vuoi illustrare tu? Sì, Un Pensiero è un brano che è nato durante un periodo difficilissimo per noi e non solo per noi e mi riferisco a quello che è successo pochi anni fa, il periodo della pandemia. Scressi questa composizione che ho intitolato Un Pensiero e l'ho dedicata a tutte le persone in difficoltà quindi anche a noi del settore dello spettacolo e questo brano l'ho realizzato suonando qualche strumento in più. Ufficialmente sono pianista però mi sono divertito per la realizzazione di questo pezzo a suonare qualche strumento in più e l'ho inserito in un mio disco che è uscito due anni fa e Andrea molto gentilmente lo ha preso in considerazione e quindi è diventato un pezzo del programma che appunto suoniamo nel suo concerto. E invece per l'immediato futuro avete già dei progetti in cantiera? Sì, noi appena finiamo questo tour e penso che verso fine anno registreremo un nuovo album con questo quartetto e adesso stiamo ultimando i pezzi, stiamo definendo, poi iniziamo a fare qualche prova e poi vediamo, penso che uscirà sul 2025. Ok, e invece oggi quale brani ci proporrete in questa sessione di registrazione? Allora io vorrei suonare un brano che si chiama Only You Can Dance Of My Heart, solo tu puoi ballare sul mio cuore in italiano. E' un brano che è un mascheramento di un famoso standard jazz, che si, che è David Nerebbi da Novedriù. E' stato rearrangiato con un nuovo tema e mi piace molto questo brano perché collega sia la tradizione che quello che poi oggi è il modo di suonare, come l'abbiamo rearrangiato. Quindi proponiamo questo e poi vorrei fare una ballad che è dedicata alla mia figlia, si chiama Alessandra ed è il titolo del brano. Ok, allora adesso vi farò sentire un'anteprima del brano che abbiamo registrato che poi, come sempre, verrà pubblicato per intero la settimana prossima. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.